Con noi c'è Giustino Masciocco, coordinatore comunale di Sinistra Ecologia Libertà. Dopo l'esordio nelle provinciali, primo appuntamento con le amministrative, con quali prospettive si punta a migliorare il risultato di due anni fa? Sì, sicuramente abbiamo un'ambizione di partecipare a queste comunali cercando di poi di ottenere delle rappresentanze all'interno del Consiglio Comunale. Noi abbiamo in questi anni costruito una lista, sia la lista che il partito, una sinistra di governo, una sinistra che vuole governare con dei metodi nuovi. Noi vogliamo che i cittadini partecipano direttamente alla formazione delle delibere consigliari, noi vogliamo che il palazzo sia veramente trasparente. Non si può sempre scegliere sulle spalle dei cittadini, bisogna in qualche modo coinvolgerli e secondo me bisogna rispondere di quello che si fa loro. Perché non è che nascondendo o creando dei falsi inganni riesci poi a ottenere l'appoggio che vuoi. Io penso che in maniera molto sincera si è donne e uomini che amministrano, si amministra bene, si amministra male, ma sempre nell'interesse generale. Perché se l'obiettivo è l'interesse generale della città e dei cittadini che la abitano, allora si può anche sbagliare in buona fede. Ma se invece questo viene strumentalizzato per poter portare avanti delle proprie convinzioni, benché di centrosinistra o di centrodestra, non lo accetto. Quindi noi nasciamo, abbiamo svotto le primarie e coerentemente appoggiamo il centrosinistra. Su questo, le primarie contro Massimo Cialenti, tra virgolette, con Vittorio Festuccia. Cosa resta di quell'esperienza e Festuccia sarà candidato? Allora, resta una grande e una bellissima esperienza per quanto riguarda il giro elettorale che abbiamo fatto, gli incontri che sono stati fatti. Vittorio, oltre a dimostrare una grande generosità, aveva in mente un modo nuovo di fare politica. Credo che in parte questo è stato raccolto anche dal candidato sindaco Cialente, perché anche lui spesso, ultimamente, comincia a parlare di un nuovo modo di governare. Credo che Vittorio ha avuto un ottimo successo. Il 30% da indipendente, avendo l'appoggio di Sinistra, Ecologia e Libertà contro un sindaco uscente e quattro partiti che lo appoggiavano, penso che sia stato un ottimo risultato. E di quell'esperienza comunque vogliamo continuare a modificarla. Che Vittorio sia candidato o meno lo decideremo in queste ore. Io penso che sia molto importante rispettare la sua volontà, ma quello che noi vogliamo portare avanti è la sua idea, cioè quell'idea di coinvolgimento dei cittadini che a noi interessa. E questo porteremo all'interno del centro-sinistra nella campagna elettorale. Giustino Masciocco, dal 2007 in poi, è stato consigliere comunale prima, assessore poi e coordinatore poi, molto sempre anche critico nelle posizioni di Cialente, dell'amministrazione, con dei distinguo importanti. Sono stati messi a punto degli accordi diversi, delle intese diverse in vista di un successivo percorso amministrativo che si vuole fare insieme? Ma i fatti alla fine poi mi hanno dato ragione. Io nel 2010, quando mi sono dimesso nel giugno del 2010 da assessore alle politiche sociali in un periodo molto duro, cioè nel post terremoto c'erano le assegnazioni dei primi mappi, erano state assegnate le case, avevamo problemi di sociale, notevoli problemi di sociale. Io contestavo, e questo ho contestato anche al sindaco, le gestioni commissariali. In quel momento Massimo Cialente era vice commissario per l'assistenza della popolazione. Questo ci ha diviso, ci ha diviso proprio il modo di intendere il governo della nostra città. Io dicevo che eravamo occupati e quindi oggi lo dice anche il sindaco, tant'è che nel settembre, tre mesi dopo le mie dimissioni, il sindaco si è dimesso da vice commissario. Quindi quella sensazione che avevo di essere etero diretto, quella sensazione che avevo che la giunta era stata messa sotto tutela, il fatto che anche la città fosse stata messa sotto tutela, beh quella cosa mi sono ribellato. Mi sono ribellato lasciando l'incarico in aperto contrasto con la gestione governativa, lasciando l'incarico da assessore e non avendo il paracaduto del Consiglio Comunale. Io sono uscito dalla giunta e sono rimasto fuori, ecco, per fortuna che abbiamo costruito questo partito di Sinistra Ecologia e Libertà, di Convendola, insieme ad altri amiche e amici, compagni e compagni, e che in parte mi hanno fatto tornare la voglia di occuparmi della cosa pubblica. Altrimenti ero veramente deluso dopo quelle dimissioni perché non si poteva continuare a mentire ai tuoi concittadini dopo un anno dal terremoto. Continuiamo a dover dire che le cose andavano bene, quando invece non andavano bene, quando invece il governo, almeno quel governo, voleva che tutto passasse in cavalleria. Un'ultima domanda, due domande in realtà. Quanto di DS, PDC e Rifondazione c'è dentro Sello, quindi che tipo di partito di Sinistra è? E se Vendola verrà l'Aquila a sostenere Cialè? Credo per quanto riguarda i tre partiti di provenienza, penso che sia un po' più di DS, ma ci sono anche tante compagnie e tanti compagni che si sono avvicinati dopo lo scioglimento del DS. Perché il nostro percorso, se ti ricordi, è stato quello di costruire Sinistra Democratica. Poi Vendola è iniziato con Mussi questo percorso per costruire Sinistra Ecologia e Libertà, che è un partito che nasce per tenere insieme la sinistra e per tenere insieme un governo di centro-sinistra. Vedremo quello che succederà con la riforma della legge elettorale. Nichi Vendola è già venuto all'Aquila ad appoggiare Festuccia il 24 febbraio, io penso che verrà a sostenere principalmente la lista di Selle e dopo il centro-sinistra con Cialente Sindaco. Grazie a tutti.